Forza nemiche all'orizzonte Caccia torpediniere nemico individuato Attenzione, segnalo la posizione del bersaglio Allarme incendio! Generatore di fumo avviato Perfumezare Quintena Perfumezare Perfumezare Corre Perfumezare Il cacciatorpediniere nemico è saltato in aria Rilasciata cortina fumogena Attenzione, segnalo la posizione del bersaglio Incrociatore nemico individuato Il cacciatorpedini, segnalo la posizione del bersaglio Ricevuto Supportate obiettivo alleato La nostra squadra è in vantaggio La nostra squadra è in vantaggio sulla nave nemica. Generatore di fumo A tutte le unità, segnalo la posizione di un bersaglio strategico. A tutte le unità, segnalo la posizione di un bersaglio strategico. Rilasciata cortina fumogena. Corazzata nemica distrutta. La nostra squadra è in vantaggio. La corazzata nemica sta colando a picco. La corazzata nonica distrutta. La corazzata nonica distrutta. Porta aerei nevica affondata. La nostra vittoria è vicina. Così si fa. A tutte le unità, concentrare il fuoco sul bersaglio. La corazzata nonica distrutta. Allarme incendio! Generatore di fumo avviato! Problema risolto, signore! Rilasciata cortina fumogena! Allarme incendio! 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 Allarme incendio!